Dovete dirmi se volete o no a questo caso. Quanti anni di servizio avete voi due messi insieme? 110? 120. Da dove vengo io o scegli una pistola e un distintivo o un casco e un martello? Forza, Tark! Forza! Sei il migliore! Tom Cowan è il mio collega da quasi 30 anni. Quasi a bruciapelo. Sì, direi massimo un metro. Nessuna impronta. Io sono l'assassino. Tu apri la porta. Sei il mio. Beh, è ovvio che conosci le politiche. Ma non le conosco soltanto. So tutto di loro. Allora le stai seguendo, le stai petinando. Che ho detto? Non è possibile. In mezzo agli occhi. Mi piace usare la pistola? Non c'è niente di male a sparare ogni tanto. Basta che vengano colpite le persone giuste. E che mi dice del distintivo? Il distintivo è bello. Basta che ci sia anche la pistola. Ucciderà ancora. Lo sai tu e lo so io. Di chi è stata la decisione di entrare? La mia. Di chi è stata la decisione? Molte persone rispettano il distintivo. Tutti rispettano la pistola.